ciao a tutti mi chiamo andrea e sono imprenditore ho un'officina dove vende riparo moto faccio tutto il lavoro da solo e con questo anche la mia contabilità è molto stressante per me in più il programma che utilizzo è molto caro e molto complicato inoltre a causa di un incidente ho perso tutta la mia contabilità per fortuna oggi ho scoperto easy count il programma creato per l'attività fino a 10 dipendenti easy count è molto semplice accessibile da computer o ipad con aggiornamenti e salvataggi giornalieri inclusi ora finalmente ho il tempo di uscire con la mia piccola quindi semplifica anche tu la tua contabilità con easy count ciao